Siamo a rappresentare milioni di italiani, siamo a rappresentare milioni di italiani che non ritengono che l'arte possa basarsi sullo sfruttamento, sulla tortura, sul dolore, sulla morte di animali. Questo buffone criminale assassino che si definisce artista ma che è soltanto un criminale assassino buffone, Jean Fabre che oggi esibisce la sua pseudo arte di morte a Firenze, è la stessa persona che ha esibito cani morti, gatti morti, animali squartati, vitelli. Allora noi vi chiediamo se volessimo parlare del maltrattamento alle donne cosa faremmo? Esibiremmo a Firenze nel nostro museo le donne stuprate, violentate e uccise dai mariti. Se volessimo fare una mostra contro la pedofilia cosa dovremmo fare? Dovremmo esporre in gabbia le migliaia di preti di cardinali pedofili che ogni giorno scoprano i bambini. Dovremmo esporre i bambini violentati e ammazzati ogni giorno. Allora l'arte non si fa con gli animali morti, l'arte è bellezza, l'arte è vita.